Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 142esima puntata del podcast di Marcosbox. È passato tempo, osò. Riaccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le notizie dell'ultimo mese, visto e considerato che l'ultima puntata risale allo scorso 3 marzo e non me ne vogliate, scusatemi, ma sono stato un po' di casi intermezzo tra operazioni di parenti e altre problematiche varie e quindi ho avuto pochissimo tempo da dedicare al sito, poi ho avuto proprio pochissimo tempo anche da dedicare alla passione, quella nostra che ci accomuna, quella di provare in continuazione sistemi operativi open source. Anche se a dire il vero, nel qualche settimana fa ho fatto anche io un cambio, ho cambiato distribuzione, sono passato su Fedora 38 la beta, quindi quella che ancora non è rilasciata in forma stabile, con Gnome 44 perché ero ansioso di provare Gnome 44, quello puro, quello bello, senza personalizzazioni allo punto, che poi sono finito per infarcire di estensioni per poter avere almeno il minimo sindacale e quindi non è più Gnome puro, vabbè, lo so. E vi devo dire, un po' mi sto annoiando, mi sto annoiando con Fedora perché bug grossi non ne ho trovati, l'unica cosa che sto trovando per adesso e che sto vedendo, e questo è molto proprio, anzi quasi sicuramente colpa dell'accoppiata Gnome più driver Nvidia. Sto notando con gli ultimi update di Fedora dei micro lag che prima non vedevo. E anche, ci devo dire anche alcuni tempi di avvio di alcune applicazioni che sono leggermente superiori rispetto rispetto ad altre distribuzioni, prima avevo Endeavor OS. Sto dando la colpa principalmente a Gnome, potrebbero tutta colpa di Gnome più Nvidia, però fatemi sapere voi che se avete provato, se notate con questa accoppiata dei rallentamenti e quant'altro. Nvidia è sempre con driver closed perché, sì, installo sempre i driver closed su Linux, sono una persona cattivissima. Allora, passiamo prima, anzi apriamo questa puntata parlando di distribuzioni Linux e apriamola parlando di Vanilla OS. Vi ricordate di Vanilla OS? Vanilla OS è una delle distribuzioni più interessanti rilasciate negli ultimi mesi, è realizzata da un italiano, lo sviluppatore principale, ed è una distribuzione che inizialmente nella prima sua incarnazione è stata basata su Ubuntu che adesso ha deciso di cambiare casacca e a partire dalla versione 2.0 di Vanilla OS, Vanilla OS 2.0 nome in coge Orchid, questo è il nome di questa seconda release di Vanilla OS, Vanilla OS passerà da Ubuntu a Debian Seed, sempre continuando a offrire un Gnome quanto più vanilla possibile. Le motivazioni che hanno portato gli sviluppatori a fare questo cambio di base sono svariate, le trovate riassunte nell'articolo su Marcosbox, principalmente perché Gnome offre un'esperienza vanillica migliore, più vicina rispetto a Ubuntu. Perché? Perché Canonical applica tantissime patch, ha diverse componenti di sistema per poter realizzare la sua distribuzione, per poter pubblicare la sua distribuzione, e quindi ci sono tante patch che vengono applicate e che poi bisogna rimuovere dai pacchetti, quindi è un lavoro molto importante quello che gli sviluppatori hanno costretto a fare, prendere il pacchetto derivato da Ubuntu, togliere delle patch, ripristinare tutto il comportamento di default, ripubblicare. Quindi si va prima a prendere qualcosa che è già vanillica, è già corrispondente a come Gnome intende il suo desktop e quindi poi modificarlo. Ci sono poi altre motivazioni, ma diciamoci che questa è la motivazione principale. Hanno scelto comunque poi sempre di rimanere in ambito Deb, semplicemente perché gli sviluppatori hanno già familiarità con i pacchetti Deb e con Debian, quindi era inutile fare, che ne so, un ipotetico passaggio a base Arcio, a base Fedora e quant'altro. Su Marcosbox trovate un articolo dove ci sono tutte quante queste informazioni, ci sono tutte quante le modifazioni elencate e ci sono anche alcune cose che vengono annunciate per quanto riguarda questa nuova versione, che sarà basata su Gnome 44, quindi sulla prossima versione, anzi sulla versione attuale di Gnome, perché Gnome 44 ormai è stato rilasciato. Fatemi sapere voi se l'avete provata questa distribuzione, se vi piace questo tipo di distribuzione, lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox. Abbiamo detto ad inizio puntata che sono passato a Fedora 38 con Gnome 44, e abbiamo parlato anche del fatto che la prossima incarnazione di Panigo S basata su Debian e utilizzerà Gnome 44. Ebbene, come non parlare adesso di Gnome 44, che è il vero proprio ospite principale di questa puntata, perché sia direttamente che indirettamente è il suo momento. Direttamente perché? Perché è stata rilasciata la versione 44 di Gnome, nome e codice Quala Rumpur. È stata rilasciata lo scorso 22 marzo, la trovate già appunto sulla versione di sviluppo di Fedora, la trovate su Arch Linux, se non ricordo mai, quindi Arch Linux e tutte le sue derivate, quindi potete provarla fin da subito su queste distribuzioni. Le principali novità di Gnome 44 riguardano importanti miglioramenti che sono stati fatti nella sezione delle impostazioni, perché sono state aggiunte nuovi pannelli, sono state fatte delle modifiche anche per quanto riguarda il file manager, ma sono state fatte anche delle modifiche all'applicazione software, che adesso è stata resa più snella. Ma vediamo quali sono le principali novità. La prima novità riguarda una funzionalità che era stata richiesta a gran voce e finalmente il team di Gnome ha deciso di accontentare gli utenti. Non sto parlando delle icone nella traia di sistema che poi non lo implementeranno mai, ma è stata aggiunta un'altra cosa che potrebbe essere utile. Le finestre di dialogo del selezionatore di file di Gnome hanno sempre avuto solo una visualizzazione renko, che è ottima quando si va a scegliere un file in base al suo nome, ma non è altrettanto buona quando si va a scegliere un file in base alle miniature. Quindi se ci troviamo in una cartella contenente delle immagini, con la visualizzazione renko, è difficile andare a vedere perché sono piccinone, non si capisce. Per questo motivo nel corso degli anni gli utenti di Gnome hanno ripetutamente chiesto l'aggiunta di una vista a griglia nel selezionatore file e adesso finalmente con Gnome 44 abbiamo questa vista a griglia. Ci voleva tanto? Non lo so, delle volte si fossilizzano su... Cioè non vanno a fondo, non vanno a mettere le cose che veramente servono. Tipo gli indicatori maledetti, perché non mettete gli indicatori? Comunque, lo so, è una battaglia solo mia. Passiamo adesso a parlare dei pannelli. Nelle impostazioni di Gnome, quattro pannelli delle impostazioni sono stati rielaborati. Il primo pannello riguarda il pannello chiamato Device Security. La sezione Device Security è stata introdotta nelle impostazioni su Gnome 43. Da allora ricevono una serie di importanti aggiornamenti. In questa nuova versione di Gnome, lo stato della sicurezza del dispositivo è stato meglio descritto, perché adesso troveremo delle notazioni come controllo di loghiti, controllo superato, protetto. E questo rende il pannello più facile da capire. Che cosa mostra Device Security? Dimostra se l'hardware ha un buono stato, un buon livello di protezione, e se è stato abilitato almeno il Secure Boot. Quindi, adesso avete l'iconcina, che è chiara di lettura, con la scrittina sotto, quindi è facilmente capibile che cosa va a significare. L'altro pannello è quello riguardante le impostazioni di accessibilità di Gnome, che sono state ridisegnate. Le diverse sezioni delle impostazioni sono state suddivise per facilitare nella navigazione, e anche il design delle singole impostazioni è stato migliorato. Per essere più chiaro, è coerente con tutte le impostazioni di sistema. Inoltre, ci sono molte impostazioni che sono state aggiunte nelle descrizioni, che è cosa buona e giusta. Il pannello suono, il pannello di impostazioni audio, è stato aggiornato rispetto all'ultima versione, e anche in questo caso ci troviamo davanti a un pannello più facile da usare, con il controllo del volume che è stato spostato in una finestra separata, è possibile disattivare il suono degli avvisi, e una nuova finestra per i suoni degli avvisi consente di sfogliare i suoni disponibili, e la finestra per il test del suono è stata ridisegnata, eliminando i precedenti problemi dovuti al ridimensionamento in presenza di molte uscite, e quindi è fornendo un'interfaccia più attraente. Infine, troviamo delle modifiche nel pannello mouse e touchpad. L'ultimo è questo pannello, che appunto, come dice il nome, va a gestire le impostazioni del mouse e dei dispositivi touch, se avete un portatile. Il cambiamento più evidente in questo pannello è l'aggiunta di un video che mostra le diverse opzioni disponibili. Sono i video che servono anche per far meglio capire agli utenti che cosa andiamo a modificare a fare. Altri miglioramenti dell'impostazione di mouse e touchpad incontrano anche una finestra di testo, una nuova impostazione per l'accelerazione del mouse, e segni di spunta dei vari nei diversi cursori. Sono stati poi, è stato fatto un lavoro su GNOME Software, che è stato semplificato nel codice, ed è soffro un'esperienza più fruda e veloce. L'applicazione ha anche migliorato il supporto per i formati software di nuova generazione, quindi i runtime fratto pack adesso vengono automaticamente rimossi quando non sono necessari per risparmiare spazio sul disco, e gli aggiornamenti del sistema operativo basati su immagini hanno adesso delle informazioni sullo stato di avanzamento e descrizioni. Ci sono poi alcuni miglioramenti in files, quindi file manager, miglioramenti nell'impostazione dei wifi, e altre cose neanche quella. Andate a leggere l'articolo pubblicato su Marcosbox, dove troverete inoltre una serie di screenshot che meglio aiutano a capire quali sono queste novità. Passiamo adesso a parlare della distribuzione più amata da grandi e piccini, ovvero Ubuntu. Il team di Ubuntu ha annunciato lo scorso 31 marzo, quindi qualche giorno fa, il rilascio della versione beta di Ubuntu 23.04, nome in codice Lunar Lobster. Ovviamente è stata rilasciata sia per Ubuntu che tutti quanti i suoi firewalls ufficiali, ed Ubuntu, 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 Ubuntu Baggio, Ubuntu Sinomo, Ubuntu Kirin, Ubuntu Umato, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, Ex Ubuntu. Nah, finiamo qui qua. Ci sono troppe versioni, troppe firewalls ufficiali. E c'è anche una new entry, come avete appunto ascoltato, ma di questo ne parleremo. Nel prossimo spezzone di puntata del podcast. La versione finale di Ubuntu 23.04 è prevista per il prossimo 20 aprile 2023. E stando a quel che sto leggendo un po' in giro, si appresta ad essere una delle versioni più buggate di sempre. Ci sono diversi problemi, quindi sarà uno dei miggiori rilasci di Ubuntu. Ma è così. Con Ubuntu lo sappiamo. I rilasci, quelli semestrali, sono dei rilasci che lasciano un po' il tempo che trovano. E soprattutto ultimamente non c'è molta attenzione a parte di Canonical nello sviluppare Ubuntu. E quindi è un po' una... Cioè puntano soltanto sulla versione LTS, diciamoci. E nemmeno poi tanto nell'ultimo periodo che il primo rilascio è sempre un po' disastroso. Vabbè. A parte questo. Quali sono le novità principali di Ubuntu 23.04? Beh, include Gnome 44. O meglio, include diverse componenti mutuate da Gnome 44. Perché sapete come fa Ubuntu? Fa sempre il solito mischione. Quindi un pezzo da grano, un pezzo da grano, un pezzo della versione un po' precedente. E Ubuntu, sa. È tradizione quella di Ubuntu di non fare una cosa allineata. Troviamo anche poi una nuova versione dei font di sistema di Ubuntu. I driver Mesa 23.0 e i kernel Linux 6.2. Altra grandissima novità di questa versione è il nuovo installer scritto in Flutter. Che è presente su ISO. L'ho provato. Non mi ha fatto installare il registro. A meno questo prima del rilascio della beta. 3-4 giorni prima del rilascio della beta era buggato. Nel caso mio non portava a termine l'installazione. Ancora non ho avuto modo di provare su macchina reale questo installer. Però comunque, se come me siete sfigati e vi beccate il bug della configurazione standard e quant'altro, in caso di problemi potete comunque utilizzare quello precedente che è ancora disponibile nella ISO. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni su questo rilascio di Ubuntu. Trovate i link per poter scaricare la beta. E le note di rilascio e l'annuncio ufficiale. Quindi andate a leggere se siete interessati. Mo' avevo detto. Ve l'avevo annunciato. Ve l'avevo parlato. Ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto due volte. Ve l'avete ascoltato prima. C'è una nuova intrusa. C'è un nuovo arrivato tra le derivate ufficiali. Tra i flavor ufficiali di Ubuntu. E questo nuovo flavor ufficiale è niente po' di meno che Ubuntu Cinnamon. Ubuntu Cinnamon ve ne avevo parlato già a dicembre del 2019. Era nata questo nuovo flavor ufficiale. Nel corso degli anni. Gli esigruppatori di Ubuntu Cinnamon si sono impegnati per migliorare costantemente la distra, la qualità. Al fine di far entrare a far parte della famiglia di Ubuntu come derivato ufficiale. E adesso è arrivato l'ok da parte dei capocci di Canonical, del technical board di Canonical. Che ha dato voto favorevole per rendere Ubuntu Cinnamon flavor ufficiale a tutti gli effetti di Ubuntu. La prima versione di Ubuntu Cinnamon ad essere rilasciata come flavor ufficiale sarà Ubuntu Cinnamon 23.04. Quindi in concomitanza con il rilascio della prossima regrese semestrale che avverrà a 20 aprile. Quindi fra qualche giorno. Sentivamo la mancanza di una nuova derivata di Ubuntu, ma soprattutto una derivata di Ubuntu con Cinnamon. E non lo so. Forse no. Forse probabilmente no. Visto è considerato che se uno vuole provare Cinnamon nella sua sinamosità, si rivolge a Gnook's Mint. È tutto sviluppato in caso, è tutto ottimizzato. Però, come sapete, tantissime distribuzioni hanno delle derivate ufficiali basate sul cinnamon. Perché no? Perché Canonical non deve avere anche lì una derivata ufficiale. Poi fin quando gli sviluppatori offrono un'alternativa, la offrono gratuitamente, ognuno è libero di utilizzare e di dire se è buono o non è buono. E voi la proverete? L'avete provata? Fatemi sapere con un commento sulle pagine di Marcosbox. Parliamo di Cinnamon, è come non parlare della distribuzione che ha originato Cinnamon, davvero Linux Mint. Marzo è finito e come di conseguenza è arrivato il post di Clement, Creme, Lefebvre, con le ultime novità dal fronte di sviluppo di Linux Mint e di Cinnamon. Questo post mensile di Clement, di Linux Mint, pone l'accento sui colori. Perché? Con Linux Mint 21.1, vi ricorderete, sono stati aggiornati i temi di sistema che hanno beneficiato di una nuova palette colori che li ha resi più moderni e puliti. Molti l'hanno apprezzato questa cosa. Per non scontentare nessuno, in pieno stile, Linux Mint sono state al tempo stesso mantenute le vecchie combinazioni di colori e per non farci mancare nulla è stata aggiunta anche una sezione di temi popolari di terze parti, quindi si può spaziare da tutte le combinazioni possibili su Linux Mint. Gli utenti si sono trovati però davanti a una enorme mole di temi fra cui scegliere e questa enorme varietà di temi e di varianti di colori ha però reso più difficile per gli utenti individuare un tema particolare. Alcuni temi di icone funzionano magari bene con alcuni temi GTK ma non con altri. Insomma è un bezzo bordello. Poi la schermata di benvenuto consente di cambiare il tema da chiaro a scuro ma si agisce soltanto qui e funziona soltanto con il tema Mint Y e funziona soltanto su Linux Mint. Quindi c'erano un po' di criticità che sono state adesso rimate. E gli sviluppatori hanno deciso di progettare una nuova soluzione che potesse funzionare per qualsiasi tema, qualsiasi distribuzione e che al tempo stesso rendesse più semplice la navigazione e la scelta senza dover scorrere lunghi arrenchi di temi installati e senza preoccuparsi della compatibilità. Partiamo dalle semplificazioni. La variante di colore brown è simile a quella sand. Sono su un attore dello stesso colore, stessa tonalità. Il team di Linux Mint ha deciso di toglierne una, di sacrificarne una. La vittima sacrificata è stata la variante brown, per gli amici del governo italiano, quella marrone. Altra novità, altra modifica che è stata fatta è che è stata rimossa quella orrenda a mio avviso, striscetta colorata che era presente nell'angolo in basso a destra nelle cartelle dell'icone. Nelle cartelle dell'icone sulla Linux Mint 21.1 c'era questa fascettina verde sull'icona già che è inutile, brutta. Adesso hanno deciso finalmente di rimuovere. L'unico problema è che, di fatto, rimuovendo questa striscetta, le icone sono simili a quelle del tema di icone papirus, che poi sono quelle su cui Mint si era basato per fare il suo set di icone. Quindi hanno rimosso una peculiarità che li distingueva dal tema papirus per diventare papirus reggianti. Vabbè, sono scelte che le hanno fatte, però hanno fatto benissimo a rimuovere quella striscetta che era bruttina. L'altra novità riguarda le icone monocromatiche che sono state rimosse. Adesso hanno deciso di rimuovere tutte quante quelle icone monocromatiche e tutti i temi delle icone scure, quindi tutte le applicazioni che utilizzano ancora icone monocromatiche, che sono difficili da leggere e difficilmente si adattano al cambio del tema chiaro-scuro, adesso tutte quelle applicazioni, dicevo, che utilizzano le icone monocromatiche, utilizzeranno adesso per impostazioni predefinite le icone all'uaita, quelle di Gnome. Sì, hanno fatto una cosa carina, hanno fatto una scelta sensata, però anche in questo caso hanno portato un po' di confusione a mio avviso, perché poi ti ritrovi che, ne so, Transmission che avrà i suoi set di icone differenti adesso, avrai le icone colorate a duaita e non avrai le icone che noi siamo andati a mettere di sistema. Insomma, hanno sistemato da una parte la coperta per avere una cosa più carina e utilizzabile con i temi chiari e scuri, però poi non hanno modificato, cioè non hanno pensato a questo problema. Fate un set di icone che funziona su tutto e basta. Io delle volte non vi capisco queste modifiche, fatte e non fatte. Poi, l'altro ramo, l'altro settore, l'altra parte del desktop che è stata modificata è quella relativa alla scelta, alla scelta dei temi, dei temi GTK. Praticamente è stato introdotto un nuovo concetto di temi chiamato stili. Uno stile affino a tre modalità, misto, scuro e chiaro. Ognuna di queste modalità può contenere delle varianti di colore. Una variante è una combinazione di temi che funzionano bene insieme. Quindi loro hanno introdotto questo concetto di stile per rendere più facile il passaggio e la scelta dei temi in modo tale da poter individuare facilmente fra i temi installati quelli che hanno un bel aspetto, una bella combinazione tra di loro in modo tale da non dover andare a sorbirsi tra le miglia combinazioni che erano presenti nella vecchia gestione dei temi. Detta così, lo so, suona malissimo. Andate a vedere gli screenshot postati sul blog perché andate a vedere gli screenshot si capisce immediatamente di che cosa stiamo parlando. Però anche qui in questo caso, fatemi fare una piccola critica. Cioè loro hanno introdotto, anziché pensare a ridurre tutte queste miglia combinazioni di colori, no, perché vogliono rimanere a mantenere miglia combinazioni di colori, però hanno detto, per aiutarvi bene nella scelta introduciamo gli stili, questi stili, quindi un nuovo pannello dove è possibile selezionare gli stili, di temi che vanno bene assieme con combinazioni di colori che vanno bene assieme in modo tale da scegliere meglio il tutto. Rimuovate i temi in eccesso, lo so che è una cosa brutta per il tema di Linux Mint quella di non dare miglia 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 possibilità di scelta di personalizzazione dei temi, perché è una delle cose che ormai ci portiamo avanti da tantissimo tempo di Linux Mint e avete visto che cosa è successo, hanno introdotto una nuova palette di colori con la precedente versione e hanno deciso di mantenere quelli vecchi e più di aggiungere poi un altro tipo di temi e quant'altro. Cioè, troppa grazia Sant'Antonio, tagliamo un po' che cosa. Vabbè, comunque, a molte persone piace questo approccio, a molti utenti Linux Mint piace questo approccio e adesso è più facile trovare un tema, uno stile di colore bello. Poi, un'altra piccola modifica, infine, che è stata fatta riguarda le nuove colorazioni che sono state introdotte nelle cartelle. È stata introdotta, per esempio, una nuova variante quella basata sul tema Yaru, quindi la combinazione di colori di Yaru. È stata messa una nuova combinazione Tiller, dell'icone. Sono state fatte varie modifiche e le icone delle cartelle poi hanno ricevuto anche il contrasto che è stato messo grazie al fatto che adesso sono di due tonalità differenti che le icone delle cartelle, quindi sono bicolore e sono più gradevoli da visualizzarsi. Insomma, ci siamo capiti. Il team di Linux Mint ha deciso di giocare con i colori della distribuzione sulla prossima versione di Linux Mint la prossima versione che sarà la 21.2 Io propongo ufficialmente di cambiare il nome della distribuzione in Linux Rekin non lo so, chiamiamola così fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E passiamo adesso a parlare di software con il riascio di un nuovo browser web che si contenderà il titolo del browser più anonimo adesso capire del perché MoveAdVPN, il popolare servizio di VPN e TorProject hanno deciso di lavorare congiuntamente per la nascita di un nuovo browser web chiamato MoveAdBrowser Questo browser web è un multipiattaforme per Windows, MacOS e Linux è basato su Firefox e mira a ridurre al minimo tracking e fingerprinting senza però utilizzare il rete Tor L'idea alla base del rilascio di questo browser è quella di fornire un'alternativa in più oltre al rete Tor per navigare in internet con maggiore privacy MoveAdVPN e TorProject fanno parte da molti anni della stessa comunità che si dedica allo sviluppo di tecnologie che danno la priorità alla protezione del diritto, alla privacy delle persone e MoveAd contribuisce anche a TorProject al più alto livello di appartenenza come membro fondatore del TorProject Membership Program si sono rivolti agli sviluppatori di Tor per poter aiutare a sviluppare il loro browser per creare un prodotto basato sugli stessi principi e con gli stessi livelli di sicurezza simili a TorProject senza essere basato su TorProject con la possibilità di avere anche facilmente essere utilizzabile con una VPN in breve che cos'è MoveAdBrowser? ve l'ho detto prima è praticamente un browser è TorBrowser senza la rete TorNetwork consente a chiunque di sfruttare tutte le funzionalità di privacy create dal browser di TorProject con una serie di estensioni preinstallate perché troviamo preinstallato uBlock Origin, noScript e l'estensione di MoveAdBrowser per la VPN quindi poi sono state fatte alcune modifiche sotto al cofano la modifica più importante riguarda il mondo in cui riguarda l'approccio che ha la privacy online che utilizza MoveAdBrowser MoveAdBrowser applica un approccio hide in the crowd spero di averlo pronunciato bene sapete bene che mi manca crea praticamente un'impronta digitale simile per tutti quanti i suoi utenti e di fatto significa che praticamente appariremo tutti uguali tutti quanti gli utenti che utilizzeranno MoveAdBrowser appariranno uguali agli occhi degli spioni quindi vengono bloccati tutte quante vengono mascherati tutti quanti quei parametri funzionalità che vengono comunemente utilizzati da chi effettua il tracking per restare informazioni dal dispositivo quindi caratteri contenuti contenuto visualizzato API hardware e quant'altro quindi per impostazione predefinita vi maschera quasi completamente questo browser quindi rende difficile la vita agli spioni ovviamente MoveAdBrowser viene lanciato con la modalità privata abilitata blocca tracker cookie di terze parti semplifica l'eliminazione dei cookie tra le pagine visitate durante la stessa sessione e quant'altro potete scaricarlo e utilizzarlo su su Windows macOS e Linux come vi ho detto e fatemi sapere che cosa ne pensate di questo browser se avevate la necessità di questo browser oppure no che poi non c'entra con MoveAdBrowser ma ve ne parlo lo stesso da qualche da qualche giorno mi hanno dato il codice di accesso per poter utilizzare per poter provare la versione in sviluppo di DuckDuckGo browser per Windows lo sto utilizzando circa DuckDuckGo che vi devo dire c'è diversi bug è comunque una versione una versione beta con anteprima privata quindi non è disponibile non è una beta pubblica è basato sul Microsoft Edge WebView 2 e io ero sinceramente molto contento dell'archivo di questo browser all'interno del panorama del browser web però dopo aver utilizzato un po' ho detto vabbè io queste cose le posso fare pure con Firefox giusto qualche senzione e tornando al discorso anche di MoveAdBrowser io queste cose le posso fare anche con Firefox MoveAdBrowser è per chi vuole la pappa pronta però se avete se siete un po' smanittoni se siete utenti attenti alla privacy con con Firefox potete plasmarlo a vostro piacimento con una serie di estensioni e settaggi quindi va bene avere la pappa pronta però ricordatevi sempre del caro vecchio Firefox che vi dà la possibilità di fare quel che volete abbiamo parlato di MoveAd del suo servizio VPN del suo browser come non parlare adesso dell'altro del servizio VPN anzi del servizio VPN più conosciuto e sponsorizzato da mezzo mondo da mezzo web ovviamente sto parlando di NordVPN che negli ultimi giorni è stato anche sempre più attenzionato da parte degli utenti italiani dopo il fatto il fatto dopo che il servizio di chat GPT è stato oscurato in Italia potete aggirarlo lo sapete bene con una semplice VPN che cosa è successo è successo che NordVPN ha deciso di rilasciare con licenza open source tre dei suoi componenti dei suoi prodotti e l'ha fatto in concomitanza del rilascio di una nuova funzionalità gratuita per gli utenti chiamata MeshNet che cosa è stato rilasciato con licenza open source l'intera applicazione NordVPN su Linux ovviamente LibTelio che è una libreria di rete utilizzata dalle applicazioni di NordVPN su tutti i sistemi operativi e LibDrop che è una libreria utilizzata per condividere i file su MeshNet questa nuova funzionalità gratuita che è stata aggiunta a NordVPN questa decisione ovviamente è molto importante per noi utenti Linux l'applicazione Linux di NordVPN potrà essere migliorata grazie al contributo della comunità di appassionati del software libero quindi andando a colmare eventuali casi di utilizzo non previsti inizialmente da risultatori di NordVPN come abbiamo visto in questa volta l'applicazione sono state rese pubbliche due librerie LibTerio che vi dicevo è una libreria che costituisce di fatto la spina dorsale di tutte le applicazioni di NordVPN non solo del client Linux ed è una libreria lato client per la creazione di reti criptografate chiamate Meshnet sui nodi dell'utente l'altra libreria che è stata resa open source è LibDrop che è una libreria per l'invio ricezioni di file principalmente su Meshnet ma funziona anche tramite One se volete avere maggiori informazioni vi invito a visitare la pagina che trovate su Marcosbox con l'articolo dove ci sono tutti quanti i link alle pagine GitHub e vi ricordo che se avete bisogno di un abbonamento di NordVPN potete utilizzare il mio link referral che trovate sempre in articolo per la serie ogni tanto pubblico ancora delle guide ho pubblicato su Marcosbox qualche settimana fa lo scorso 14 giorni quindi 15 giorni fa se state ascoltando questa puntata giorno 5 una guida che spiega come risolvere il problema il mancato avvio di Udacity in formato Frat Pack su Linux Mint può essere altre distribuzioni durante la fase di oddio che distro prova adesso che mi è venuta lo scorso 15 di 15 di anzi 14 scusate di di marzo del 2023 ho deciso di provare nuovamente Linux Mint l'ho installata Linux Mint a parte di fatto che mi ha fatto un casino nell'install che mi è andata a installare Wifi all'interno della partizione Wifi del disco di Windows quando invece dovevano farlo all'interno della partizione Wifi del disco Wifi cioè della partizione Wifi del disco Linux perché io lo sapete se mi ascoltate da diverso tempo lo sapete utilizzo una soluzione a due dischi per i sistemi operativi con Windows su un disco Linux su un altro disco e ogni disco ha il suo Wifi quindi Wifi per Windows nella sua partizione e la partizione Wifi sul disco Linux per Linux in modo tale da evitare i soliti casini che succedevano in passato quando Windows decideva di piallare cose a casa all'interno della partizione Wifi e quindi memoria di tante impregazioni ha deciso di adottare questa soluzione non è una soluzione molto molto da puristi ma è semplice ma efficace però Linux Mint quel giorno ha deciso pure di fare cose a cazzi suoi nonostante gli avevo detto di fare un altro tipo di operazioni e andare a installare la data patria vabbè aperto e chiusa parentesi su Linux Mint e vi dicevo ho provato Linux Mint a metà del mese scorso e ho visto che c'era questo bug con Audacity andando a lanciare Audacity installato in formato fret pack su Linux Mint mi sono trovato davanti a una schermata di errori che mi avvisava che Audacity non rispondiva e quindi non mi partiva il programma il problema qual è? il problema è che da quel che ho visto è che è stato segnalato questo bug già lo scorso 2 agosto 2022 e chi di dovere non ha ancora proposto pervenuto o rilasciato una soluzione all'interno del pacchetto il workaround per far partire Audacity in formato fret pack su Linux Mint qualora anche voi avete questo ancora consiste nel modificare alcuni permessi nell'applicazione mediante fret sì che è un'altra applicazione in formato fret pack una utility grafica che è per rivedere modificare i permessi dell'applicazione in formato fret pack e che vi consiglio a questo punto di installare su tutte le vostre installazioni se decidete di utilizzare una distribuzione che utilizza o meno se decidete di utilizzare applicativi in formato fratto pack all'interno della vostra distribuzione perché è molto comoda è un'utilità di grafica che a noi ci piacciono le cose grafiche sì siamo smanettoni però ogni tanto è bello dire così non se elettore tu clicchi e riesci a fare le cose pochi clic su marcosbox trovate la soluzione a questo problema in questa guida vi ho messo anche un video ho approfittato per fare una video guida del problema quindi ogni tanto riportiamo in vita anche il canale youtube di marcosbox e spoiler Fedora lo ristarrata subito dopo il passaggio che ho fatto con o come si chiama con Linux Mint maledetta Linux Mint mi hai fatto estrarre Fedora tutta colpa tua arriviamo agli ultimi due argomenti di questa puntata la prima riguarda una notizia interessante per tutti quanti noi utenti che amiamo i software libero open source e che arriva direttamente da una delle istituzioni europee il garante europeo della protezione dei dati a partire dal mese di febbraio 2023 ha iniziato a sperimentare l'utilizzo di nextcloud e collaboro online che sapete è basato sulle tecnologie di libero office come strumenti per condividere file inviare messaggi effettuare videochiamate e consentire la redazione collaborativa in un ambiente cloud protetto è una notizia importante che è collegata anche ovviamente al gtpr perché perché finalmente le istituzioni europee hanno iniziato a sperimentare delle soluzioni che possono ridurre al minimo la dipendenza da fornitori di monopolio e eventuali blocchi del fornitore dannoso negoziando anche contratti migliori per fornire i servizi cloud all'interno dell'unione europea e per soprattutto avere la sicurezza che i dati i dati presenti nel cloud risiedano su territorio europeo perché è importante che i dati personali delle persone dei valisi risiedano sul territorio europeo e non in paesi extraeuropei perché sapete bene che la normativa per la protezione dei dati a livello europeo è molto stringente e molto attenta alla privacy la normativa americana è praticamente all'acqua di rose e consente al governo americano in caso di problemi andare a spiare e fare quel cavolo che gli pare con i vostri dati quindi è una cosa importantissima per noi cittadini dell'unione europea e speriamo che questo esperimento dia buoni frutti e che tale cosa venga adottata a livello europeo globalmente ma soprattutto anche a livello italiano perché noi ultimamente stiamo iniziando a anzi nel corso degli ultimi anni abbiamo iniziato a infischiarci nel trattamento dei dati personali ma è una cosa che dovremmo prestare più attenzione la privacy è importante il modo in cui i nostri dati vengono utilizzati è importante lo so ci sarà chi tra di voi dirà ma io non ho niente da nascondere ma il dato è anonimizzato e quant'altro mo è anonimizzato mo non c'è modo di vedere poi magari si scopre fa qualche anno che come è successo con con altri scandali si scopre che magari quel dato non era propriamente anonimizzato e magari si poteva ricondurre a noi mo viviamo in una democrazia potremmo non vivere in una democrazia domani quindi la privacy digitale la sicurezza digitale dei nostri dati è importantissima è vitale quindi non facciamo gli soldi cerchiamo di di essere più più attenti a queste cose e concludiamo questa puntata parlando di un evento che si svolgerà il prossimo mese di maggio e che è organizzato da Odo Italia Odo è una suite di applicazioni aziendali open source che copre tutte e quanti una serie di esigenze all'interno dell'azienda quindi CRM e-commerce contabilità inventare condivendita e quant'altro quindi è uno strumento molto potente in Italia abbiamo un'associazione chiamata Odo Italia ne ho parlato anche diverse volte sulle pagine di Marcosbox che porta avanti Odo in Italia e ha organizzato una conferenza dedicato all'ERP Odo e questa edizione 2023 si terrà a Milano presso Gucci Cinemas Bicocca Village il 4 e 5 maggio 2023 l'evento prevede due giornate di talk e tavoli di discussione legate alla piattaforma Odo i biglietti sono disponibili sono già disponibili sul sito odoitalia.org e se volete partecipare proponendo un vostro talk potete farlo fino al 14 di aprile andando al posto link che trovate sulle pagine di Marcosbox e compilando le informazioni necessarie per poter partecipare in prima persona di questo evento maggiori informazioni sulla conferenza ERP Odo edizione 2023 le trovate sulle pagine di Marcosbox con tutti i link mail e quant'altro fatemi sapere se parteciperete e anzi se partecipate fate anche da inviati per Marcosbox andando magari a spiare a favore secondo se siete disponibili vi prego qualcuno lo faccia ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 142esima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi invito a iscrivervi numerosi alle pagine social mi potete seguire su facebook su twitter su youtube mi potete seguire su linkedin mi potete seguire su mastodon mi potete seguire su qualsiasi piattaforma di podcasting perché sapete che il podcast è presente praticamente ovunque da spotify Apple music google podcast chi più ne ha più ne metta vi invito poi a seguirmi soprattutto sui canali telegram sono all'attivo tra i canali telegram un canale quello principale che potete utilizzare a molti feed rss per le notizie trovate poi la community telegram collegata dove potete discutere non soltanto di links ma potete discutere praticamente di qualsiasi cosa e trovate infine un canale telegram dedicato all'offerta Amazon che potete utilizzare per supportare il blog se acquistate da uno dei link viene riconosciuto una piccola percentuale da parte di Amazon infine vi ricordo che un altro modo per poter supportare il blog oltre alle donazioni che trovate anche sulle pagine di Marcosbox è quello di acquistare una VPN che può essere sia NordVPN che Surfshark che AdidasVPN che fanno parte tutta della stessa famiglia da qualche tempo sulle pagine di Marcosbox trovate un link che vi il gusta quali sono le varie caratteristiche di questa VPN e trovate tutti quanti i miei link a filiazione detto ciò lunga vita e prosperità tutti quanti ci riascoltiamo prossimamente con il prossimo puntato di Podcast di Marcosbox e vi faccio fin da ora i miei migliori auguri per una buona Pasqua per chi è credente una buona Pasquetta mangereccia per chi non è credente mi interessa soltanto la Pasqua per poter mangiare per poter fare scampagnata e ciao ciao mi raccomando mangiate mangiate regolare non mangiate serio però mangiate strafogatevi grazie a tutti